Quella foto è un fotomontaggio. Io ero vestito esattamente così allo Stadio San Paolo, perché è questa qui. Questa non è vera, questa è una classica fake news. Ah, vedi. Però io capisco, perché ha fatto il giro per così tanti anni che è diventata vera. Io ero... No, ma noi possiamo dire ufficialmente oggi? Sì, sì. Non è vera. No, non è vera, assolutamente.